La parola d'ordine è una sola, categorica, impegnatina per tutti. La parola d'ordine è una sola, categorica, impegnata per tutti. La parola d'ordine è una sola, categorica, impegnata per tutti. La parola d'ordine è una sola, categorica, impegnata per tutti. La parola d'ordine è una sola, categorica, impegnata per tutti. La parola d'ordine è una sola, categorica, impegnata per tutti. La parola d'ordine è una sola, categorica, impegnata per tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.